La decisione degli Stati Uniti di riconoscere ufficialmente il genocidio armeno ha riacceso il dibattito sul tema anche nell'Unione Europea. In Europa finora sono solo 16 gli stati membri a cui va aggiunto il Parlamento Europeo a riconoscere che il massacro della popolazione armenia a inizio del secolo scorso fu genocidio. Fuori dal blocco, oltre agli Stati Uniti, sono solo 13 paesi al mondo che condividono questa posizione. Non si tratta solo di riconoscere il genocidio armeno con una legge in questo o quel Parlamento, si tratta piuttosto di riconoscere il nostro genocidio come un fatto, perché è avvenuto e su questo non ci devono essere dubbi. Ora che gli Stati Uniti hanno riconosciuto il genocidio del popolo armeno per noi inizia una nuova fase, che non mira solo al riconoscimento politico, ma punta ad attenuare le conseguenze del negazionismo e le politiche aggressive della Turchia nei confronti dell'Armenia. Tra il 1915 e il 1916 circa un milione e mezzo di armeni furono uccisi o fatti morire di fame per mano dell'impero ottomano. Nonostante il diffuso consenso accademico sul fatto che queste atrocità equivalessero a genocidio, lo Stato turco ha sempre rifiutato questo termine, sostenendo che le uccisioni di massa sono avvenute da entrambe le parti. Questa posizione è condivisa anche dalla comunità turca di Bruxelles, che in buona parte crede che il riconoscimento del genocidio armeno sia un'arma politica utilizzata dall'Occidente per indebolire la Turchia. Gli Stati Uniti sono gelosi dei progressi della Turchia nel campo militare, per questo hanno adottato questa scelta politica. Il presidente turco Erdogan ha criticato la decisione degli Stati Uniti, ma finora si è astenuto dal compiere passi importanti contro il più grande alleato all'interno della Nato. Secondo gli esperti, la Turchia ha un approccio più emotivo che politico alla questione armena. La Turchia sta affrontando un periodo molto difficile, da un lato l'economia che non va più bene come prima e dall'altro l'isolamento crescente nelle sue relazioni internazionali. I rapporti con le potenze prossime come Russia, Unione Europea e Israele sono sempre più complessi. Quindi in un quadro di simile debolezza è difficile che il governo di Ankara possa reagire in maniera incisiva contro il riconoscimento del genocidio armeno da parte degli Stati Uniti. La Turchia però potrebbe strumentalizzare il tema per alimentare il nazionalismo, cosa che, secondo gli esperti, potrebbe incrinare ancora di più le sue relazioni con l'Occidente e con lo Stato armeno con cui condivide il confine orientale.